Io mi chiamo Salvatore Daniele Amalfa e vivo a Milazzo, sono sposato, ho una bella famigliola e faccio il dipendente nel settore metalmeccanico da oltre 20 anni. Chiaramente mi trovavo nel web e mi sono imbattuto in questo video di questa grande opportunità perché stavo cercando un'opportunità per migliorare il mio lifestyle. Ho scelto di andare all-in e quindi andare sia con la membership che con il rappresentante. Ho risparmiato quasi il 50% da uno dei miei DreamTrips e la cosa che mi ha appassionato dall'idea è stato il fatto che potessi aggiungere dalla mia passione anche un'entrata secondaria. Quindi grazie World Ventures! Ciao a tutti, sono Anna Reglis da Roma e questo è mio marito? Gianni Dorio, sempre di Roma, adottato a Roma. Due anni fa dei nostri carissimi amici ci hanno fatto conoscere un bellissimo club di viaggi, World Ventures che abbiamo trovato subito interessante, nonostante abbiamo aspettato qualche giorno per poi decidere di farvi parte. Abbiamo conosciuto tantissimi amici, abbiamo fatto un bellissimo viaggio a Praga con una cifra modestissima proprio alla portata delle tasche di tutti. Speriamo presto di fare ancora nuovi viaggi. Ciao, sono Serena di Roma e anche io faccio parte di World Venture. Quando una mia amica mi ha presentato questo club e mi ha fatto conoscere questo club non ho avuto un minuto di esitazione. Ho detto, beh, anche io devo far parte di questo club perché è veramente pazzesco. Soprattutto l'opportunità di viaggiare a prezzi veramente eccezionali e con un trattamento VIP. Questa è la cosa che più mi ha attirato. Ma poi in un secondo tempo ho detto, perché no? Ho deciso di entrare anche nel business perché potrei avere un'opportunità diversa nella vita. per un lavoro diverso, un modo diverso anche di approccio verso la vita. Sono felice di far parte di questo club, ma soprattutto perché ho l'opportunità di conoscere tantissime persone e di rimanere in contatto con tantissima gente. Sono veramente felice di far parte di World Venture. Sono di Pescara, mi chiamo David Bonelli e faccio parte di questo club da oltre tre anni. una tra le scelte più belle che ho fatto in questi ultimi tempi. Perché? Perché ho riscoperto il gusto di viaggiare in un determinato modo. E non solo questo. Ho scoperto l'opportunità di poter costruire delle relazioni fantastiche con tanti amici sparsi in tutta Europa e non solo. Beh, naturalmente non potevo fare altro che parlarne, parlarne in giro. Perché poi ho portato amici con me in questo club, viaggiare insieme. e ho convolto tantissime persone. In questi tre anni ho costruito una bellissima rete di amici che hanno contribuito a sviluppare quello che poi è diventato uno dei miei business principali. Ciao, io sono Paola e sono di Praga, però in questo momento vivo a Roma. In World Venture sono più di tre anni. Grazie a questa opportunità ho potuto viaggiare in tantissime città, tantissime paese, incontrare molto buone persone da tutto al mondo. Quando ho iniziato con questo progetto ho fatto solo il studente. Allora, non è niente più bello che potete andare all'Abergo 5 Stelle, essere come VIP, potetelo pagare. Tutto questo grazie al World Ventures. Ciao, sono Alessandro Cosentino, sono di Torino e nella vita sono un ingegnere. Anche se in verità la mia passione è viaggiare. Mi piace tantissimo viaggiare, mi piace farlo con le persone che amo e quando ho visto l'opportunità con World Ventures non potevo farmela scappare. Infatti sono entrato subito come membro Platinum, sono entrato all-in anche come rappresentante, proprio per condividere questo progetto con altre persone come me. Negli ultimi nove mesi ho preso quattro vacanze. Giusto oggi abbiamo finito di prenotare la nostra prossima vacanza, una vacanza strepitosa in California. abbiamo risparmiato qualche centinaio di euro rispetto al metodo tradizionale che era quello che io pensavo fosse quello più conveniente in assoluto. Quindi non posso che ringraziare World Ventures, grazie per avermi permesso di collezionare esperienze e ci si vede in giro per il mondo. Ciao! Ciao ragazzi, io mi chiamo Geneviève Paola, sono francese e italiana, abito in Svizzera, conosco questo travel club da due anni e mezzo ed è stupendo. Ho potuto viaggiare più di 15 volte in due anni e mezzo, questo è proprio favoloso perché hanno dei prezzi incredibili. E ho preso anche il business per formarmi, per incontrare gente incredibile che pensa come me, che vuol fare come me ed avere una rendita per mese di quasi più di 1000 euro al mese. Con questo travel club da due anni e mezzo cambia la vita, cambia la vita della mia famiglia, cambia la vita anche dei miei amici che mi hanno seguito in questa avventura. Io ve lo consiglio veramente perché la vostra famiglia e i vostri amici che vi fanno vedere questo vi amano e vi vogliamo con noi in questo travel club stupendo, con incontri stupendi. A presto ragazzi!